Ciao a tutti ragazzi, sono Epitriaper e bentornati in questo nuovo episodio della serie di Minecraft. Allora ragazzi, innanzitutto volevo chiedervi scusa per la piccola inattività che c'è stata in questi giorni. Di solito tendo a fare più che altro delle pause di un giorno tra un video e l'altro, ma ieri mi sono preso due giorni di pausa per il semplice fatto che, come alcuni di voi sapranno, visto che nell'open lobby comunque lo avevo ancora, avevo un pochino di mal di gola e diciamo che mi era praticamente impossibile parlare. Vabbè, poi non era pochino il mal di gola, era un bel po', però comunque tossivo poco, ma la mia voce era praticamente distrutta, quindi non riuscivo a giocare. Ho quindi deciso di prendermi un attimino questa pausa anche per pensare bene a cosa fare, nel frattempo ho anche farmato un bel po' di materiali. Comunque ragazzi, cosa costruiremo quest'oggi, vista la grandissima quantità dei materiali? Allora, un mio amico, che è il solito Matteo, mi ha consigliato di costruire una casa su una montagna. Allora, io la casa sulla montagna ce l'ho già, però lui mi ha consigliato di costruire una casa su una parete della montagna. Onestamente non sapevo come farla, non avrei saputo come farla, però ripensandoci, sono andato un attimino a controllare dove c'è questa collina, ho visto che questa zona qua è abbastanza buona. Tra l'altro me l'aveva consigliato anche uno di voi un bel po' di tempo fa, quindi dopo andrò a cercare il commento di chi me l'ha consigliato e metterò il nome sullo schermo in questo preciso istante. Ma comunque ragazzi, appunto, questo mio amico Matteo e la persona che avete appena visto sullo schermo mi avevano consigliato un bel po' di tempo fa, Matteo ieri me l'ha consigliato, di costruire questa casa sulla montagna. Allora, volevo dirvi che non ho mai costruito una casa sulla montagna con facciata laterale, avevo costruito una cosa un bel po' di tempo fa, in una delle prime stagioni delle serie di Minecraft dove ancora trovo dei mondi che facevano schifo, e non era comunque su una parete di una montagna, era più che altro sospesa tra due punti di una montagna ed era veramente fatta malissimo. Ora che ci ripenso, ho sempre voluto farne una abbastanza decente, visto che il mio amico me l'ha consigliato, visto che comunque sono migliorato lievemente dall'altra serie che avevo un bel po' di tempo fa su Minecraft, ho deciso che comunque potrei ricominciare a costruirla e magari anche meglio la casa. Volevo dirvi che però non ho fatto alcun progetto, cosa che di solito faccio su carta per ogni costruzione che faccio, per il semplice fatto che purtroppo la montagna non posso replicarla su carta. Quindi ragazzi, cercherò un attimino di improvvisare con lo scheletro della casa, ed è per questo che farò un taglio, in quanto non so quanto possa essere interessante, farmi vedere praticamente dove piazzo blocchi più che altro che saranno le colonne portanti della casa, ma più che altro volevo farvi vedere un attimino, una volta che ho finito di piazzare tutto lo scheletro della casa, appunto che forma le faremo prendere e cosa faremo. Quindi ragazzi, faremo subito il primo taglio ora e nel frattempo penserò un attimino a come fare lo scheletro da casa e dove piazzare appunto le colonne portanti. Ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, piccola pausa giusto per dirvi. Si sta rivelando molto molto complicato, quindi non so quanto farò lungo effettivamente l'episodio, anche perché potete immaginare che abbia una quantità di tempo ristretta e limitata. Quindi in caso non ci dovessi mettere troppo farò anche magari il tetto e cose di questo tipo, altrimenti se mi rendo conto che ci metto troppo magari non faccio tutto lo scheletro e mi concentro un attimino sul lavorare la parte che appunto ho costruito. Comunque adesso continuo un attimino a vedere cosa riesco a fare e ragazzi ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, una quarantina di minuti dopo lo scheletro della casa è praticamente finito e ora ho intenzione di spiegarvelo. Allora, ci ho messo un bel po' ragazzi a costruirlo e il tempo scarseggia, quindi purtroppo questo episodio non sarà molto lungo. Comunque nel prossimo episodio vi farò vedere più che altro la grande parte di questa casa. Comunque in questo episodio vi farò vedere innanzitutto come ho intenzione di posizionare i tetti e le stanze. Vi voglio anche dire alcune cose che ho intenzione di fare. Allora, come prima cosa devo piazzare qua assolutamente il resto delle corniciature, se si possono chiamare così perché mi sono dimenticato di metterle. E vi stavo dicendo comunque, allora questa qua sarà più che altro la stanza principale, ma non sarà l'entrata della casa. Quindi diciamo che da qua ci dedicheremo un attimino a fare un sistema di scale che poi ci condurrà dentro la montagna. Infatti ragazzi dovrò scavare off camera tutta questa zona qua, che sarà un lavoro non noioso di più. E praticamente dalla scala che ci sarà qua sotto, praticamente farò i vari collegamenti con le stanze che saranno poi più che altro. Questa qua laterale, allora questa qua laterale come potete immaginare ci sarà un collegamento che sarà più che altro al livello normale, poi farò delle scale per salire e scendere. E questa zona qua sarà più che altro una zona per il deposito. Infatti qua in alto ho intenzione di fare un deposito per magari minerali e cose di questo tipo e in quest'altra piccola stanza magari di fare la stanza degli incantesimi. Volevo anche dirvi che ho deciso finalmente di spostare la mia casa in questa, che poi sarà questa casa completa, perché se verrà come effettivamente me la sto immaginando nella mia testa, verrà qualcosa di abbastanza carino. Tra l'altro mi sono dimenticato molti lavori di framing che farò dopo, comunque praticamente devo attaccare soltanto dei log di legna che vanno praticamente dalle colonne portanti a un'altra. E poi qua ci sono altre stanze. Allora questa qua sarà la stanza della camera da letto, in quanto poi di qua farò altre decorazioni. Ho deciso che prima di colonizzare praticamente la parte di là, ragazzi, mi dedicherò a colonizzare questa zona che si collega più velocemente al villaggio. La colonizzazione appunto deriva dal fatto che più vicino alla casa dove appunto ci sarà poi la casa della montagna c'è un villaggio ed è per questo che ho deciso di costruire di qua e di cominciare a colonizzare questa zona. Comunque qua non vi mentirò perché ragazzi lo sapete che se vi devo dire qualcosa ve lo dico onestamente. Invece che fare magari una stanza ricurvo, ho deciso di copiare malamente l'idea del balcone di Ethos Lab che aveva fatto una casa scavata in una montagna, quindi non come me che si basa più che altro sulla montagna, ma è praticamente una casa dentro una montagna e poi aveva fatto qualche struttura all'esterno della casa e praticamente l'idea del balcone l'ho copiata a due. Ve lo dico onestamente perché onestamente ritengo che ci stia molto bene un balcone e poi l'idea che avevo io di fare una stanza curva così non ci sarebbe stata bene vista i collegamenti che ho in mente di fare tra le varie stanze. Qua davanti ragazzi metterò magari un'altra stanza, probabilmente non una camera da letto, ma magari una stanza dove ci dedicheremo un attimino a perlustrare la zona da qua, giusto perché abbiamo un bello spettacolo davanti. e qua dove c'è il balcone ci sarà praticamente un mega stanzone sotto dove faremo tutte le farme e anche magari sistemi automatici o meccanismi di pietra rossa. Questo per il semplice fatto che ho intenzione di trasformare questa casa nella mia casa ufficiale e di fare grandissimi sistemi di pietra rossa. Il balcone sarà più che altro una cosa abbastanza estetica e poi ci saranno delle stanze che semplicemente non saranno visibili dall'esterno. So che può sembrare abbastanza confusivo, poi magari nel prossimo episodio o semplicemente off camera aggiungerò anche delle altre parti esterne alla casa, ma onestamente ritengo che un ingresso che poi sarà qua e una struttura così vista all'esterno può già sembrare più che altro sufficiente per la struttura che sarà poi della casa. I tetti ragazzi saranno la cosa più complicata da fare per questa casa in quanto saranno tutti collegati tra di loro e alcuni bisognerà prolungarli fino a appunto collegare zone della casa altrimenti non collegate. Infatti come potete vedere questa zona della casa non è per niente collegata a questa zona qua e avevo intenzione appunto di fare un collegamento sto dicendo troppe volte collegare, collegamento, parole di questo tipo ma fa niente e avevo appunto intenzione di collegare queste due parti della casa con il tetto. Infatti avevo intenzione di iniziare il tetto da là e prolungarlo fin qua, magari trasformando la mansarda in un'altra stanza e facendo cose di questo tipo. Poi il tetto che invece sarà qua sarà un tetto puramente decorativo in quanto finirà attaccato alla montagna e qua ho intenzione di fare un mix tra i vari tetti che ci saranno più che altro della torre principale della casa e magari anche con quelli delle stanzette laterali in quanto comunque sulle stanzette laterali faremo sicuramente più di un tetto in quanto ho intenzione di fare dei prolungamenti appunto in stile medievale o comunque appunto sullo stile su quale mi baso di solito all'interno della serie che è un medieval moderno. Comunque a questo punto ragazzi volevo anche dirvi che qua sotto non so se ve l'ho già detto per via dei miei problemi di memoria ci sarà la stanza madre e sarà più che altro accessibile una volta che avrò scavato tutta questa montagna fino al livello del balcone quindi dovrò demolire praticamente questa zona fino al livello che poi sarà del balcone e qua ci sarà la stanza madre dove appunto ci sarà l'ingresso al seminterrato la scala per andare al piano superiore e cose di questo tipo. Comunque farò comunque l'aggiunta comunque farò comunque è bello l'utilizzo del lessico repiti i reaper gli stavo dicendo farò comunque i saluti e l'aggiunta alla stanza degli iscritti anche se l'episodio sarà molto molto corto quindi diciamo che sarà un semi episodio questo anche se effettivamente non ve l'ho detto inizio episodio ma ragazzi ci ho messo veramente tanto so che 40 minuti non possono sembrare tantissimi per molti di voi ma per me che ho un bel po' di impegni ragazzi potete immaginare che sono a dire vero un bel po' di minuti tra l'altro non sapete che maggior parte del tempo non posso registrare quindi tendo a registrare tutto in un unico giorno ma questa casa dovrò dividerla più che altro in più episodi comunque ora vi voglio far vedere come ho intenzione di fare il tetto e per farlo non mi serve neanche il legno di quercia in quanto come potete vedere ho distrutto un bel po' della foresta che c'era qua davanti per farmare legna di quercia oscura infatti il tetto lo faremo più scuro del solito ho intenzione di farlo molto molto simile a quello della casa qua di fianco la casetta sulla montagna molto piccola molto semplice esteticamente e strutturalmente però ho intenzione di mischiarlo come saprete con anche della cobblestone in quanto mi baso molto sul contrasto che c'è tra cobblestone e di solito legno di quercia non so come potrebbe venire tra cobblestone e legno di quercia oscura ma onestamente vedremo con il passare del tempo e con il progetto quasi completo poi ovviamente fare il tetto non significa che il progetto sarà completo ma avete capito cosa intendo detto questo visto che sta facendo notte ragazzi vado un attimino a dormire faccio passare il tempo e poi vi parlo un attimino di cosa ho intenzione di fare per le mura per le mura avevo intenzione di fare qualcosa di molto semplice ovvero nelle parti che sono più rientrate della casa ovvero praticamente le parti inferiore rispetto a quelle più grosse che sono poi i piani superiori della casa fare un misto tra legno di acacia che abbiamo qua di fianco ora ve lo faccio anche vedere vedete quello lì è legno di acacia non lavorandolo però quindi terremo più che altro la parte grigia del legno di acacia e cobblestone magari misto anche con della pietra questo per il semplice fatto che onestamente costruire tutto monotexture non mi piace moltissimo anche perché ho visto che a molti di voi piaceva magari vedere più contrasto tra le cose quindi vedrò un attimino anche di fare questo effetto sfumatura con vari oggetti dello stesso colore e per invece i piani superiori che sono quelli un pochino più allargati magari mi baserò sempre sul solito stile di legna di quercia normale e cose di questo tipo cose che onestamente mi piace molto comunque per quanto riguarda i tetti ragazzi adesso costruisco un attimino le scale e vi faccio vedere quello che ho intenzione di fare ok ragazzi ora che ho pronte le scale vi faccio vedere quello che ho intenzione di fare per i tetti che a dire il vero è quello che faccio più che altro sempre in ogni casa allora volevo anche dirvi approfittando un attimino dello spazio di tempo e dello spiraglio di tempo che si è generato nel mentre dovrò costruire il tetto che alcuni di voi mi hanno consigliato di fare una serie in creativa dove vi insegno a costruire vari tipi di case onestamente l'idea mi sembra molto carina però so che non è originale in quanto ho visto molte molte persone ultimamente fare serie di questo tipo e sapete che più che altro mi baso su fare cose originali poi se devo prendere spunto o direttamente copiare da qualcosa come potete sapere ve lo dico sempre e onestamente non so se effettivamente fare questa serie in creativa scusate hanno chiamato sul telefono di casa comunque vi stavo dicendo fatemi sapere nei commenti se volete effettivamente questa serie in creativa che alcuni di voi mi chiedono da un bel po' di tempo onestamente potrebbe essere appunto qualcosa di carino ma come già detto l'ho già vista varie volte in giro onestamente non mi sembrerebbe qualcosa di gran che originale però se la volete a me andrebbe veramente molto bene tra l'altro potrei trasformare quello che sarà poi il mondo in creativa dove testerò tutte le cose in un server dove magari voi potrete giocare comunque basta che me lo facciate sapere per quanto riguarda il tetto ragazzi invece vi stavo facendo vedere come lo costruisco di solito che è ovvero un'alternanza tra lo scalino di cobblestone e poi il blocco normale questo che serve per dare un attimino un pochino più di potenza più che altro so che non si parla di potenza ma più che altro di non so come spiegarlo di maestosità all'edificio se si può dire così perché onestamente ritengo che ci stia molto molto bene magari un dislivello di altezza tra i vari blocchi e onestamente ritengo che possa fare anche un buon contrasto più che altro per lo stile medievale con il resto del mondo l'ho già visto varie volte utilizzato in giro onestamente ritengo che ci stia molto molto bene per il mio mondo tra l'altro chi mi segue da un po' saprà che lo introduco e che l'ho sempre introdotto nelle mie costruzioni ed è per questo che più che altro rimarrò un attimino con questo tipo di tetto comunque come potete vedere arriveremo un attimino a scontrarci con il resto delle varie stanze ma è questo l'effetto che poi voglio ottenere alla fine per quanto riguarda invece il resto della legna che sarà poi la legna che voglio utilizzare voglio fare qualcosa come per la casa di DegiBuilder che era un vecchio youtuber ed è la casa più grande che si vede là in lontananza allora ovvero voglio praticamente rifare il tetto replicando la casa di DegiBuilder ovvero praticamente fare il tetto con i vari dislivelli tra i blocchi onestamente è una cosa che ci sta molto bene ma che è difficile da fare e onestamente ritengo che ci possa stare molto molto bene anche sulla casa che poi sarà più che altro sul dirupo quindi sarà più che altro chiamata la casa del dirupo onestamente ritengo che ci stia appunto molto bene però comincerò un attimino a piazzare i blocchi normali perché non sapendo come farvelo vedere al momento in quanto non ho le slab ma ho soltanto i blocchi normali e onestamente anche qua voglio fare un effetto sfumatura con vari tipi di materiali dello stesso colore onestamente voglio un attimino aspettare prima di farvi vedere poi cosa ho intenzione di fare completamente come potete vedere comunque continuerò a costruire il tetto fino a quando non incontrerò ostacoli quindi più che altro mi baserò su una politica di costruzione che è vai finché non trovi qualcosa che ti blocca come in questo caso e poi una volta che troverò appunto qualcosa che mi blocca mi baserò più che altro sull'adeguarmi e fare qualcosa che più che altro annetta il blocco con il tetto cosa che onestamente ci sta molto bene che ho fatto anche per fare magari il rifugio sotterraneo che adesso non si vede e anche la ferrovia comunque ragazzi ho intenzione di prolungare tutto il tetto della casa così e onestamente ritengo che questo episodio vista la mancanza di tempo e tutto possa anche ritenersi concluso e mi spiace veramente tantissimo diciamo che questo episodio l'ho fatto più che altro innanzitutto per farvi vedere cosa ho intenzione di costruire visto che comunque è un grande progetto anche bello grosso e seconda cosa anche per chiedervi dei pareri per appunto per quanto potrebbe riguardare la nuova serie su minecraft e anche sapere cosa potete pensare voi di questo progetto diciamo che è stato più che altro un semiepisodio in cui ho costruito quindi sarà un semiepisodio abbastanza diverso da tutti gli altri che ho sempre fatto ma onestamente penso che ci possa stare molto molto bene un semiepisodio in cui magari vi introduco anche un progetto comunque ragazzi a questo punto vado a dormire e dopo aggiungo gli ultimi di voi che nello scorso episodio mi hanno chiesto di essere aggiunti e salutati nella stanza degli iscritti quindi ragazzi ci vediamo tra poco e voglio chiedervi ancora personalmente scusa se questo episodio è stato più che altro inutile vi ho fatto semplicemente vedere le mie costruzioni off camera comunque ragazzi ci vediamo tra poco devo tra l'altro continuare un attimino con il framing ma vista che ho finito la legna di quercia farò tutto off camera ok ragazzi approfitto del caso della coincidenza per dirvi una cosa il ragazzo che mi ha consigliato appunto di fare questa casa recentemente oltre al mio amico si chiama Pasquale Henry Pasquale Henry come avete letto prima vabbè quando stavo parlando della costruzione della casa di chi mi l'aveva consigliata a fare e appunto ragazzi volevo anche dirvi questa cosa Pasquale Henry nello scorso episodio ognuno degli scorsi episodi comunque precisamente è la casa del boscaiolo uno su due quindi uno degli ultimi mi ha chiesto Reaper ma quanto ci metti più o meno ad aggiungere tutti quanti alla stanza degli iscritti facendo anche i saluti e praticamente volevo dirvi che ci metto bene o male una ventina di minuti quindi più del tempo dell'episodio completo una volta che è editato e ragazzi si lo so che ci metto tanto però onestamente lo faccio volentieri perché mi sembra un ottimo modo per ringraziarvi e per appunto darvi i crediti per tutto il supporto che mi lasciate con il passare del tempo quindi onestamente preferisco spendere 20-25 minuti che scrivendo nomi su un foglio che poi pronuncio durante il video che magari fare altro detto questo comunque ragazzi mi dedico un attimino a scrivere tutti e salutare tutti sulla stanza degli iscritti e sul foglio appunto dei saluti perché comunque qua di fianco ho sempre un foglio che ora non c'è stranamente ed è una volta che ho finito ragazzi faccio i saluti e ci vediamo dopo ok ragazzi ho appena finito di aggiungere tutti coloro che negli scorsi episodi mi hanno chiesto di essere aggiunti e per quanto riguarda i saluti quest'oggi volevo salutare Dennis Culea, Daniel Channel, DemonilProYouTube, Davide, KiradTroll, FattoreBest22, AleBK45, Enrico Conti, DomiParisi, Dalpix, RailYouTube, LaNuvola89XD, LucaGames, EnderDrome44 e BananaDogGamer quindi ciao ragazzi comunque spero vivamente che questo episodio vi sia piaciuto se si ragazzi mi raccomando fatemelo sapere con un bel vi piace so che ci ho messo un bel po' e ragazzi se volete essere aggiunti al libro degli iscritti e se volete semplicemente essere salutati mi raccomando assicuratevi che l'episodio in cui me lo state chiedendo sia l'ultimo episodio della serie di Minecraft che io ho caricato comunque ragazzi io come sempre come già detto voglio augurarvi una buona giornata una buona serata e ragazzi ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti ciao a tutti